Oggi non c'è la Messa Crescimale, spero che possiamo averla prima del Pentecoste, dal contrario dobbiamo rimandarla l'anno prossimo. Ma non posso lasciare passare questa Messa senza ricordare i sacerdoti, sacerdoti che offrono la vita per il Signore, sacerdoti che sono dei servitori. In questi giorni sono morti più di 60 qui in Italia, nell'attenzione dei malati, negli ospedali, anche con i medici, infermieri, infermieri, sono i santi della porta accanto. Sacerdoti che servendo hanno dato la vita. Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me nell'altare. Voi consacrati, soltanto vi dico una cosa, non siate testardi come Pietro. Lasciatevi lavare i piedi. Il Signore è il vostro servo. Lui è vicino a voi per darvi la forza, per lavarvi i piedi. Il Signore è il vostro servo. Grazie a tutti